Musica Comune di Battipaglia, debiti fino al 2044 Bellizzi, arrestato sedicenne Allarme sicurezza deboli, chiesti più controlli Assenteismo al Ruggi, ascoltato il sindacalista Segnaletica stradale a Battipaglia, allarme di Tozzi Caos Vigili Urbani Salerno, si dimette il comandante Museo Grand Tour, vicino l'addio Giffoni Experience, tappa in Albania Si concluderà nel 2044 il capitolo dei debiti attivi che il Comune ha di Battipaglia La commissione straordinaria ha attivato dei meccanismi di finanziamento per i prossimi 30 anni L'argomento è stato trattato durante una conferenza stampa del Movimento Civico Etica del Buon Governo Nella quale sono intervenuti la Presidente Cecilia Frangese e il segretario Gianluca Di Giovanni Il debito principale riguarda il piano di riequilibrio del bilancio avviato nel corso della gestione dell'ex sindaco Santo Mauro Perfezionato poi dal commissario Ruffo e poi portato al termine della commissione straordinaria dopo l'ok della Corte dei Conti Un prestito da 12 milioni di euro rateizzato a 1,2 milioni per i prossimi 8 anni Poi c'è la restituzione dei debiti fuori bilancio che si aggira intorno a un milione di euro E rimborso dei mutui vari contratti per le opere pubbliche di circa 5 milioni di euro La triade commissariale aveva proceduto all'approvazione di un ripiano triennale la scorsa estate A seguito del riaccertamento straordinario dei residui con il quale l'ente pagherà 324 mila euro annuali fino al 2044 Ieri sera a Bellizzi i carabinieri di Battipaglia hanno tratto in arresto un sedicenne Nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti I carabinieri a seguito di un servizio di osservazione dedicato hanno proceduto in via Parisi al controllo del giovane Trovandolo in possesso di 5 dosi di hashish per un peso complessivo di 10 grammi La successiva perquisizione dei luoghi dove il sedicenne era stato notato a girarsi e trattenersi con altre persone Ha permesso di rinvenire in un barattolo di vetro abilmente occultato all'interno della corteccia di un albero Altri 70 grammi di sostanza stupefacente e un taglierino L'arrestato al termine delle formalità di rito è stato accompagnato al centro di prima accoglienza di Salerno Roghi dolosi e immigrati clandestini sono due gli allarmi che tengono in scacco la città di Eboli Gli stranieri nelle periferie di Eboli sono migliaia, molti clandestini mai censiti, mai identificati Sul fronte italiano invece i danni della mala vita locale sono tanti Quattro capannoni danneggiati dalle fiamme tra cioffi e corno d'oro Due negozi incendiati di notte, tre indiani rapinati e malmenati a fiocche Decine di auto distrutte da roghi dolosi Chiesto a più voci da maggioranza e opposizione Ieri mattina si è svolto l'incontro con i vertici provinciali Al comitato sull'ordine pubblico hanno partecipato il prefetto Vicario Forlenza Il questore Anzalone, il sindaco Cariello, l'assessore alla sicurezza Daniello Il comandante dei vigili urbani Cosimo Polito La prima novità riguarda le telecamere Per Natale saremo pronti, assicura Cariello Stiamo seguendo un piano già finanziato Avremo un sistema di videosorveglianza al passo con i tempi Come tutte le città italiane all'avanguardia Telecamere in centro e in periferia Saranno almeno 20 gli occhi del grande fratello Nei quartieri più importanti della città Il sistema dovrebbe rallentare il racket degli incendi dolosi Piaga criminale che non si arresta ad agosto La convocazione del comitato era stata auspicata da Pasquale Infante Esponente politico di Santa Cecilia Che ha raccolto le anse degli imprenditori di Cioffi e Corno d'Oro Dove si sono succeduti gli incendi negli ultimi 4 mesi Abbiamo chiesto e ottenuto più forze dell'ordine Per migliorare prevenzione e repressione dei reati Ha spiegato Cariello Convocato dal PM Rotondo Il sindacalista della denuncia Ducui è partita l'inchiesta Giuseppe Cicalese è stato ascoltato ieri mattina Presso la caserma delle fiamme gialle di Via Allende Dove ha raccontato delle minacce subite nelle scorse settimane Quando in più di un'occasione fu avvicinato Da alcuni sconosciuti all'interno del nosocomio Un colloquio è durato poco meno di un'ora Durante il quale il sindacalista della CISL Ha ribadito al PM le sue preoccupazioni per possibili ritorsioni Timori aumentati all'indomani della conferma della sospensione per un anno Da parte del Tribunale del Riesame Per sei dei sette fannulloni Che ne avevano presentato richieste Soprattutto dopo le dichiarazioni di qualche settimana fa Del ministro della pubblica istruzione Marianna Madia Che invocò il licenziamento per gli statali furbetti del cartellino Il rischio è legato a possibili colpi di testa Da parte di qualche persona coinvolta Si teme che si possa passare dalle parole ai fatti Tramite una nota stampa Ugo Tozzi, ex presidente del Consiglio Comunale Si lamenta delle condizioni in cui versano i segnali viari A Battipaglia, spiega Tozzi C'è assoluta carenza di segnaletica orizzontale e verticale Sono servizi elementari che mancano al cittadino E su cui bisogna necessariamente intervenire Un allarme che è chiaro segnale Di una penuria ravvisata nel territorio cittadino Mancano uomini e mezzi Denuncia il medico Per comprare la pittura, la punta del trapano O il semplice palo Ragion per cui il Comune dovrebbe reperire i fondi necessari E procedere all'installazione della segnaletica orizzontale e verticale Laddove è carente Anna Bellobuono si è dimessa da comandante dei vigili urbani del Comune di Salerno Le dimissioni sono state protocollate questa mattina Alla base della scelta motivi essenzialmente personali Dettati dalla decisione dell'amministrazione Di affiancare nella trattativa con i rappresentanti sindacali dei vigili urbani L'ex dirigente Luigi della Greca La Bellobuono si sarebbe quindi sentita scavalcata nel suo ruolo E da qui la decisione di non ricoprire più l'incarico Vale la pena ricordare che la comandante era stata assunta dal Comune di Salerno da pochi mesi A seguito del concorso indetto dall'amministrazione In atto contatti per far retrocedere la stessa dalla sua decisione Il Museo di Pessum nei percorsi del Grand Tour rischia di dover lasciare il Comune della Piana del Sele Continua infatti la telenovela legata alla necessità di trovare una nuova sede per l'esposizione Dopo lo sfratto dal Convento dei Frati Minori Il problema sembrava risolto grazie all'approvazione di una delibera dell'Aggiunta Comunale Con la quale veniva concesso incomodato gratuito Palazzo Bellelli La decisione però ha innescato non poche polemiche Ad alzare i toni sono stato il Comitato 15 giugno Che ha accusato il sindaco Voza di favorire i privati e l'Associazione Agora dei Liberi Che da dieci anni occupa i locali di Piazzo Orologio Proprio quest'ultima tramite la Presidente Antonia Franco Ha precisato che per continuare a svolgere in maniera adeguata e efficace le finalità sociali E per collocare il materiale Persiste la necessità di dover continuare a usufruire degli spazi fino ad ora utilizzati Non è mancata la replica da parte del Museo con la direttrice Daniela Di Bartolomeo Che ha ricordato ai contestatori che in cambio del sacrificio per il trasferimento Era stata anche offerta alle associazioni del territorio L'opportunità di continuare ad usufruire dell'atrio Nella sala conferenza e del giardino di Palazzo Belelli A questo punto il rischio dell'addio al museo prende corpo Se è vero che non esistono sul territorio comunale altri locali adeguati per ospitare il museo sfrattato Il Giffoni Experience è sbarcato in Albania per il decimo anno Portando ai giovani albanesi un mese di cinema e venti Con il tipico spirito di coinvolgimento dei ragazzi che Giffoni sa dare Lo spin-off albanese della rassegna di cinema per ragazzi salernitana Diventa da quest'anno itinerante e toccherà sei città del paese Come annunciato dal direttore di Giffoni Experience Claudio Gubitosi 12 film accompagneranno i giovani in questo percorso di ricordi Il meglio di Giffoni degli ultimi anni verrà proposto al pubblico albanese Che si preannuncia numeroso Tante le novità che coinvolgeranno i giovani Come le riprese di Tirana fatte dal drone Per mostrare ai giovani albanesi la loro capitale da un punto di vista diverso Per mostrare ai giovani albanese la loro capitale da un punto di vista diverso